Ciao, dalla Dada Chiara con un po' di magia, un po' di fantasia, volta la pagina. Ecco Lucia che monta a cavallo, volta la pagina si vede un bel gallo, ecco il gallo che canta la mattina, chi 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 chi! Volta la pagina si vede la gallina, ecco la gallina che cova le uova, cocodè! Volta la pagina si vede un bel cobra, ecco il cobra che striscia sul prato, csss! Csss! Volta la pagina si vede l'antenato, ecco l'antenato che accende il fuoco, csss! Volta la pagina si vede un cuoco, ecco il cuoco cucina la zuppa, volta la pagina si vede una scialuppa, ecco la scialuppa che sbarca sull'isola, volta la pagina si vede una viola, ecco la viola invita un'ape, csss! Volta la pagina si vede un solo rape, ecco le rape, e poi non si vede più niente! Oh oh! Volta la pagina e... è piena di gente! Ciao!